Sono la dottoressa Martoccia, sono una specializzanda all'ultimo anno di urologia dell'Università La Sapienza e oggi ho assistito per la prima volta ad un impianto di protesi peniena, è stato un intervento rapido, pulito e estremamente interessante. Non ne avevo mai visti prima e sono estremamente soddisfatta di aver visto questo intervento al massimo e spero di poter partecipare ancora a interventi del genere.